Quante volte ti è capitato di trovarti all'interno del mercato e non capire, non sapere precisamente da dove iniziare? Una delle domande più richieste che mi vengono fatte dai miei studenti è Costin, ma com'è che fai ad entrare all'interno del mercato? Quali sono i punti della tua checklist operativa che vai a utilizzare? Bene, era sempre un argomento che comunque tendevo a spiegare all'interno delle lezioni, però un po' frazionate. Ora è arrivato il momento di spiegarti nel dettaglio quali sono i passi, i 5 passi che vado ad utilizzare per entrare all'interno del mercato Seguendo tutti i punti step by step con esempi chiari, semplici e soprattutto efficaci per capire dove iniziare e soprattutto dove finire un trade Così vedrai come andare a identificare la dominance, quali tipi di ordini utilizzare, le candele istituzionali e tante altre cosette e concetti che vengono spiegati all'interno del video Guardalo tutto e non perditi neanche un secondo perché c'è tanto di quel valore gratuito che neanche immagini E la maggior parte delle persone là fuori pagherebbe veramente tanto per soltanto venire a conoscenza di questi piccoli pochi passi È arrivato il momento di andare a concretizzare una checklist operativa Voglio fare questo video con lo scopo solo e soltanto di andare a informare in modo ottimale tutti voi che guardate questo canale Da un bel po' di tempo ma anche per i nuovi Ovviamente qui dentro state trovando tantissimi concetti, tantissimi contenuti che vi possono sicuramente e vi hanno fatto sicuramente comodo Per quanto riguarda il percorso che state intraprendendo Infatti ho ricevuto veramente tanti feedback da parte anche di ragazzi che hanno studiato semplicemente da YouTube Ma adesso è il momento di aggiungere una cosetta in più Una domanda che mi viene posta molto spesso e che è una delle un po' più delicate per andare a migliorare il proprio stile di trading E cioè la checklist operativa La checklist molto semplicemente che cos'è? Per farla molto breve, ma proprio breve breve È la nostra mappa che noi andiamo a utilizzare per andare a seguire i vari punti nel momento in cui noi cerchiamo un possibile setup Sono i vari step all'interno della strategia e che ci permettono di avere, se seguite ovviamente, tutte le conferme operative E che ci possono far dire poi posso entrare oppure no Quindi detto questo andiamo a capire nel dettaglio cosa possiamo andare a fare e cosa possiamo andare a ritrovare all'interno del mercato E quali sono gli step? Perché in questo video ti voglio andare a regalare step e punti importantissimi per la strategia Allora, il primo step, la prima cosa importante è andare a capire la dominance La dominance, per farla molto breve, è chi comanda il mercato Chi ha la palla in mano Chi va a dare la direzionalità In modo che avendo questo qua a nostro favore possiamo andare ad avere un vantaggio statistico molto più elevato In modo da essere a favore e non contro Ovvio che ogni singolo argomento, ogni singola cosa che viene spiegata e che viene vista non ha un vantaggio statistico certo e sicuro al 100% Come ho sempre sottolineato questo aspetto qua è che bisogna sempre ricordarsi Quindi, noi andando a vedere la dominance, quello che è il primo step, dobbiamo assicurarci di capire coloro che sono andati a creare l'ultimo minimo Quindi, quando noi ci troviamo in una situazione dove il mercato va a creare un minimo più basso rispetto a quello precedente Mettiamo caso che siamo in una situazione di trend ribassista Dobbiamo andare a identificare l'ultimo massimo Quello che ti consiglio di andare a fare è andare a mettere una linea Utilizzare tutti gli strumenti che TradingView mette a disposizione E qua dentro andare a utilizzare anche gli annunci Così meno qua possiamo mettere, poi per chi sa, io metto LD Last Dominance E una volta identificata l'ultima dominance, quindi coloro che sono andati a creare il minimo più basso rispetto a quello precedente Cosa che tra l'altro, apro e chiudo parentesi velocemente Questo argomento viene spiegato nel dettaglio sia per quanto riguarda all'interno del mio ebook che ho scritto Dove c'è spiegata tutta la strategia nel dettaglio per file e per segno Dove sono stati messi per iscritto i miei appunti personali E che ti spiegano come io vado ad operare all'interno del mercato ancora in maniera più dettagliata E oltre a questo viene anche tutto implementato e spiegato anche nella community privata Che sono andato a creare, che si sta espandendo sempre di più E ragazzi stanno veramente facendo un level up gigantesco Chiusa parentesi, ritornando al discorso Molto semplicemente individuata l'ultima dominance Quello che noi dobbiamo andare a fare è aspettare cosa? Come secondo step Due, rottura, dominance Andando a vedere quella che è la rottura della dominance Noi ci aspettiamo questa cosa Creazione di un massimo più alto rispetto a quello precedente E trovata questa situazione qua all'interno del mercato Le step numero 3 è andare a cercare la candela istituzionale Mi raccomando Però sto fermandoci sul punto della rottura della dominance Perché questo è fondamentale Perché se noi non aspettiamo che il mercato vada a fare una rottura della dominance Ma anzi cerchiamo di entrare e di posizionarci in compra Su questo livello qua con stop loss sotto al minimum per andare a rialzo Perché siamo frettolosi e vogliamo anticipare il mercato Potrebbe succedere che non viene effettuata la rottura E ci va a fare questa cosa qua Spacca tutto E continua ad andare a ribasso Quindi visto che noi non vogliamo essere trader impazienti Ma vogliamo seguire la strategia Seguire la checklist che ti sto regalando La cosa migliore da andare a fare è aspettare che il mercato vada a rompere E una volta che è fatto la rottura della dominance Allora qui passiamo con lo step numero 3 E quindi quello che vado a portare io all'interno della strategia Cerco la institutional candle Ho già postato all'interno del canale la candela istituzionale Ho spiegato che cos'è e come funziona Quali tipi di candele andiamo a ricercare all'interno del mercato E una volta identificata la nostra candela istituzionale Che può essere su questo livello che ci va a sbilanciare la liquidità Quello che noi andremo a fare molto semplicemente E andare a lavorare come? Possiamo lavorare in due modi Una volta identificata la candela istituzionale Quindi la nostra zona di interesse che può essere questa Noi possiamo lavorare con il pendente Oppure possiamo andare a lavorare con l'esecuzione a mercato Cosa c'è di differenza e di pro e contro con il pendente e l'esecuzione a mercato? Con il pendente noi ci troviamo in una situazione dove ci aspettiamo che vado a fare un rimbalzo Abbastanza preciso per poi andare a rialzo Questo ci permette di operare anche non stando a grafico Quindi facendo l'analisi a priori Lasciando tutte le impostazioni definite all'interno dell'applicazione che utilizziamo Per entrare all'interno del mercato Oppure noi possiamo andare a operare manualmente Se andiamo a operare manualmente mettiamo un alert e il mercato quando arriva qua Poi cercheremo di fare l'entrata Se non ci fidiamo di entrare semplicemente a pendente Perché il pendente ti permette di operare anche quando non sei direttamente a grafico Però il contro è che potresti perderti la narrativa che va a effettuare Magari vengono creati i massimi più alti e altre variabili che ci possono essere E una volta arrivato qua non ti dà reazione ma va a bucare tutto direttamente Quindi questo diciamo è il contro che possiamo avere con il lavorare a pendente Mentre dall'altra parte se noi vogliamo lavorare con l'esecuzione a mercato Una volta che ci suona l'alert Quando arriviamo su questa zona Succede che a meno che noi non operiamo manual Quindi aspettiamo una nostra evidence che potrebbe essere qualsiasi tipo Ad esempio ci aspettiamo un engulfing da parte del mercato E ci aspettiamo ripartenza Noi possiamo avere un maggiore conferma Perché potremo aspettarci la schematica solita di evidence qua nella zona Oppure l'altro aspetto negativo che potrebbe presentarsi E che ci perdiamo l'opportunità Suona l'alert non siamo lì sul momento Non abbiamo la possibilità di seguire Magari il mercato parte senza di noi Questa è una cosa che ovviamente va a incidere Ovviamente questo stile operativo che ti sto portando qui con la checklist operativa La puoi andare a applicare a qualsiasi orario della giornata A me non cambia assolutamente nulla Che sia mattina pomeriggio e sera Unico orario operativo che io sconsiglio Quando si presenta il pattern è alle 23 Quindi alle chiusure del mercato Perché ovviamente si va a allargare di molto lo spread E diventa infattibile operare all'interno del mercato Quindi vista questa cosa qua E cercata la candela istituzionale Scelgo come entrare Quindi quarto punto Scelgo come entrare Poi cosa importante Quinto step Ovviamente è importante quello che ti porta a trovare L'esecuzione all'interno del mercato Quali sono i punti a favore Ma cosa altrettanto importante È ovviamente come si va a sviluppare il trade Quindi come si conclude Perché puoi fare tutto bene Trovo la mia zona Rottura della dominance Vado a cercare la candela istituzionale Scelgo come entrare Sono dentro Però se non vado a impostare un take profit E uno stop loss Definito come si deve In maniera chiara e oggettiva Ovviamente posso andare a buttare Alle ortiche tutto il lavoro che ho fatto fino ad adesso Quindi molto semplicemente Una volta fatto questo La domanda che io mi vado a fare Nella checklist Per trovare il take profit È qual è la prima zona Che mi può dar fastidio Alla salita O alla riscesa del prezzo E quindi qua vado a ricercare Che può essere liquidità L'ultimo massimo Io solitamente prediligo Andare a prendere come punto di riferimento Target sull'ultimo massimo Perché seguendo la strategia Comunque Dall'1 a 3 All'1 a 5 È matematico La maggior parte delle volte Può scappare fuori E con lo stop loss Quello che io vado a prediligere È mettere lo stop loss Sotto l'ultimo minimo In modo da dare la possibilità Al mercato di respirare Perché non è detto Che se io trovo Un certo tipo di candela istituzionale Il mercato mi regisca Ad esempio Se una candela mista Solo sull'apertura E parte su Immediatamente Potrebbe anche Sforare leggermente la zona Tenere comunque Il livello di stop loss E andare a sparare a rialzo Potrebbe succedere anche questo Quindi noi Per evitare Di andare a prendere Uno stop loss Che magari lo mettiamo qua Al mercato Ce lo tocca Noi abbiamo voluto cercare Di fare magari Un rapporto di scrivimento Elevato Viene buttato fuori E poi vediamo che il mercato Va a target E lì ci arrabbiamo E lì parte l'emotività E diciamo Adesso rientro Magari reinvention trading Inizio a fare overtrading Rischio di più E poi mi vado a rovinare Tutto il conto Quindi per evitare L'ovviare a questo problema Stiamo un po' più larghi Lasciamo respirare il mercato Che fino a quando Noi ci andiamo a portare a casa Uno a tre Uno a quattro Uno a cinque Costante Possiamo andare Belli che tranquilli Ovviamente con un win rate Possibilmente almeno Del 40 Barra 50% E se una persona Segue queste cose qui Questa checklist Comunque ha un grosso 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 Vantaggio statistico Ovviamente performance passate Non garantiscono Performance future Questi non sono consigli finanziari Ma io invito Ognuno di voi Che sta ascoltando Questo video A provare Sulla propria pelle Come funziona Questa cosa Come far andare a lavorare Al meglio la strategia Perché ovviamente Sono il primo che dice Non fidarti del prossimo Non fidarti di quella persona Che magari ci sta spiegando Un determinato concetto Ma provalo prima Sulla tua pelle E dopo fammi sapere Infatti Adesso andiamo a vedere Alcuni esempi pratici Su come andare Ad applicare Step by step La strategia Con varie casistiche E una volta fatto questo Vai a provare Prima a scrivere Su il tuo quaderno degli appunti Tutti questi step Poi vai a fare Dei back test Vai a fare Dei forward test Quindi dei test In live E solo dopo Ho fatto questo Scrivimi su Instagram Un feedback Da un feedback Nei commenti Qui sotto il video O ancora meglio Su Instagram Mi puoi dire tranquillamente Costino ho provato Ho guardato il video E ho provato questo step Mi sto trovando bene Ho avuto queste difficoltà Cos'è meno Io posso darti una mano E capire anche Se effettivamente I contenuti che porto Possono essere d'aiuto Ma sono sicuro Che comunque Lo sono Perché stanno aiutando Veramente tante tante persone A migliorare la comprensione Ora Questi per noi Sono Di step 5 step Molto molto semplici Per andare A operare All'interno del mercato E trovare una strategia Estremamente Facile Easy Da andare a applicare Passiamo Alla parte pratica Ci troviamo in una situazione Di euro dollaro A un minuto Cosa succede Che una cosa importante È che vediamo Che comunque il mercato Qua è direzionale A rialzo Quindi quando vediamo Che il mercato Comunque ha una direzionalità Fortemente rialzista Perché vediamo qua Chiaramente questo Quello che noi ci dobbiamo aspettare È una continuazione Al rialzo Da parte del mercato È molto più probabile Che vada a fare questo Non è sicuro Il 100% Giustamente E quindi anche qui Andiamo a capire Quello che è successo Se vedi Una cosa molto importante È che il prezzo Da questo punto È andato a creare Questo minimo Che è leggermente più alto Rispetto a quello precedente E andando a vedere Quello che hanno combinato Vedi che da qui Come ti ho fatto vedere Nello schema precedente Il mercato parte a ribasso E andando a guardare Ancora meglio Quello che vanno a combinare Anche qui Vedi che poi c'è stata Subito rottura rialzista Quindi anche questo punto qui Che il mercato Da origine Al movimento ribassista È stato superato Quindi possiamo vedere Come una specie di Partenza ribassista Ritracciamento Partenza ribassista Test della zona Per poi ripartire Nuovamente a ribasso Questi che hanno fallito Nella creazione Un minimo più basso Tra l'altro piccolo indizio Che ci deve far pensare Perché come mai Il mercato non riesce A creare un minimo più basso Questa cosa qua Deve farti un po' Storcere il naso E quindi ti fa dire Sai che potrebbe essere Che con più facilità Potrebbe spingere a rialzo Infatti qui liquidità Sbilanciata Andiamo giù Fallimento nella creazione Di un minimo più basso Siamo di inizialità rialzista Quindi siamo più inclini Andare a prendere Un movimento rialzista Ora abbiamo avuto Praticamente Riprendendo la nostra checklist Uno Abbiamo Dominance Che possiamo dire Long Ora abbiamo visto Che il secondo step Della nostra checklist Operativa È aspettare la rottura Dominance Quindi qua Ovviamente possiamo dire Che la rottura Della dominance L'abbiamo avuta Con questo movimento Fatti sempre queste domande qui La risposta è Sì Perché comunque il mercato Vediamo che qua C'è stato un superamento E altra piccola cosa Che possiamo andare A implementare Nella rottura della dominance Assicurati che la dominance Venga rotta con un segno di forza Quindi con Forte intenzioni Direzionalità rialzista Ora Fatto questo Cosa dobbiamo fare Come terzo step Terzo step Cerchiamo La candela istituzionale Cerco La IC Ora Per andare a cercare La candela istituzionale Dobbiamo prima andare a capire E definire Quella che potrebbe essere Una liquidità La liquidità La possiamo trovare Quindi con dei minimi Sullo stesso identico livello In questo modo Mi raccomando Devono essere tutti Sullo stesso livello Oppure possiamo trovarla Dinamica Quindi con un minimo Che è leggermente più alto Rispetto a quello precedente Quindi si presenta In questo modo Dove il mercato Poi andrà a sbilanciarlo E una volta sbilanciato Qui vedremo la formazione Della nostra candela istituzionale Se vedi anche qui Vedi questi Uno e due Queste due candeline Che vanno a fare un rifiuto Andandocela a segnare Queste qua per noi Diventerà una candela Istituzionale Che sbilancia la liquidità Perché supera questi E anche questo minimo qua Per poi Volendo essere ancora Un po' più dettagliati Vedi anche questi Uno, due, tre Tutto questo E questo è stato superato Da questa candela Noi Quindi qua Cos'è che facciamo Prendiamo come punto di riferimento Questa candelina qua Come nostra candela istituzionale Quindi come abbiamo detto prima Questo lo segniamo come Last dominance Questa Andiamo a segnare come Candela istituzionale E questa qua Poi la andiamo a segnare Come rottura Perfetto Ora Questo tipo di candela istituzionale Com'è? La possiamo definire Comunque visto che è una buona presenza Di ombra E anche di corpo La possiamo definire mista Quindi io per andare a semplificare Il lavoro Quello che prediligo andare a fare È cercare il test Dell'apertura Della candela istituzionale Con stop loss Sotto il minimo Come abbiamo visto prima Per semplificarci la vita Il più possibile E ora Definito La nostra candela istituzionale Cos'è che vado a fare? Cos'è che vado a aspettarmi? Mi aspetto Il tipo di esecuzione Quando è così È ben definita C'ho tutti i parametri Allineati perfettamente Vado a cercare Il tipo di entrata Quindi qua In questo caso Per questo tipo di setup Entro a pendente Così a me ne sono più tranquillo Ho più tranquillità Che il trade Venga fillato E una volta fatto questo Cos'è che vado a fare? Step numero 5 Take profit E stop loss Molto semplice Ora Per quanto riguarda il take profit Quello che noi dobbiamo andare a fare Se abbiamo una fase di ritracciamento Contraria È andare a valutare Analizzare nel dettaglio Quella fase E guardando attentamente Qui puoi notare Che il mercato Sulla prima zona Che poteva darci del fastidio La continua salita Da parte del prezzo Era questi massimi Quindi questi massimi decrescenti Una dopo l'altra Come candela Questa diventa liquidità dinamica E io ti consiglio Di tenere appuntato Molto attentamente Questi dettagli qua E noi andiamo qua Per farla molto molto semplice Il rapporto di sfidimento Non importa quanto può essere Qua in questo caso È un 1 a 5 Ma dall'1 a 3 Va sempre bene E ce lo facciamo bastare Cosa succede? Che qui il mercato Una volta fatto Il massimo più alto Nota come anche Il ritracciamento È molto più lento Rispetto al long Quindi short Molto lento Long Molto più veloce Impulsivo Questo è un'altra cosa Che dobbiamo andare a segnare E tenere salvato All'interno del nostro Trading Journal E come particolari Che fanno differenza Nel setup Ovviamente Fino a quando Non ci viene creato Un massimo più alto Io vado a stare fermo Perché fino a quando Mi viene creato Un massimo più alto Io non mi vado A mettere a breakee Quindi vado a spostare Lo stop loss in pari Anche perché Se noti una piccola cosa È che qua il mercato Inizia a crearci tutta questa Liquidità dinamica Che può andare a sbilanciare E anche qui Effettuato lo sbilanciamento Ora noi possiamo andare A spostare lo stop loss Da questo minimo Che abbiamo segnato Fino a questo minimo qua Così siamo a rischio zero Vedi che comunque Presa di liquidità Segno di forza Da parte del mercato E ora Cos'è che succede? Noi lasciamo andare Potremo provare altri tipi di entrata Però la cosa più semplice È comunque lavorare Con una strategia Che vada a rispettare I punti Molto molto semplici Ok? In questo modo Abbiamo avuto Il ritracciamento Da parte del mercato Perché sono ritornati A ritestare Altre zone Altre cose Che poi Vado a approfondire E spiegare nel dettaglio All'interno della community privata Però per tenertela Il più semplificata possibile Questa è un'operazione Che si poteva andare A prendere tranquillamente Seguendo i 5 punti Che ti sono andato A regalare Ora ci troviamo In un'altra situazione Dove qua siamo invece Soltanto a 5 minuti Tanto per far vedere Che comunque Sia M1 M5 Qualsiasi time frame Tu la strategia La puoi trovare sempre Nata come il mercato Da qui Sta venendo da una direzionalità Comunque ribassista Creando massimi e minimi Sempre più bassi Quindi questo qua Era praticamente coloro Che hanno creato L'ultimo minimo Più basso Rispetto a quello precedente Quindi andandocelo A segnare Qua Cosa succede Che una volta effettuata La rottura Ovviamente questa è la cosa Che ci aspettiamo di più Quindi anche qui Riprendendo in mano La nostra checklist Cos'è che dobbiamo fare Come primo step È cercare Dominance Quindi la dominance L'abbiamo definita E andiamo a segnarci Last dominance Bene Ora Cosa dobbiamo fare Dobbiamo aspettare però Step numero 2 Rottura Dominance Perché così facendo Ci abbiamo un rielineamento E possiamo andare a rialzo E cosa molto importante Piccolo tip È Dominance M5 Che viene rotta Ha un grado di efficacia Molto molto alto Quindi io ti consiglio Di backtestarlo tantissimo Soltanto anche su M5 Perché funziona Molto bene Questo concettino Ora La rottura della dominance L'abbiamo avuta Quindi la dominance Qui possiamo segnare Che l'abbiamo trovata Poi abbiamo avuto La rottura della dominance Perfetto Ora Step numero 3 Cerco La candela istituzionale In questo caso La candela istituzionale Ricordiamoci Che è colei Che va a sbilanciare La liquidità formata E se noti Vedi queste due candele Con lo stesso minimo Sullo stesso identico livello Queste due candeline qua Vanno a fungere Da liquidità E quindi Qua dentro Abbiamo trovato La nostra candela istituzionale Però adesso Ti vado a fare una domanda Questa candela qua Com'è che si presenta? Si presenta Con Predominanza Di corpo E quindi Quando una candela istituzionale È composta per la maggior parte Da corpo Quello che noi cerchiamo È il test Almeno Al 50% Perché solitamente Il mercato Quando ti crea Queste type di candele Ho visto a livello Io statistico Che se ti testa L'apertura Non è sufficiente Perché vuol dire Che ci sono ancora Dei volumi Che devono essere Ripresi all'interno Della candela istituzionale Quindi la candela istituzionale L'abbiamo trovata E l'abbiamo anche definita E quello che noi Andiamo a fare Molto semplicemente È cercare Questa cosa qua Ovviamente qua La strategia si basa Principalmente sul pendente Poi dipenderà da te A seconda delle esperienze Della pratica E del giornale Che andrai a fare Come ti sentirai Se vai a lavorare Con il pendente Oppure con Esecuzione a mercato Mettendo un alert Quindi qua Molto semplicemente 4 Abbiamo detto pendente Ho deciso di entrare A pendente E poi Andiamo con Lo step numero 5 Quindi TP e stop loss Molto semplice Lo stop loss Andiamo a mettere sotto L'ultimo minimo Come abbiamo detto prima Per far ispirare Più possibile il mercato E andiamo a cercare Il punto di target Il punto di target Prendiamo sempre Come punto di riferimento Il ritracciamento Che ha fatto il mercato Perché anche qui Se vedi Comunque vediamo Da direzionalità rialzista Anche qua Vedi che abbiamo Questa zona di mercato Dove c'è un agglomerato Di candele Quando ci abbiamo Anche agglomerati Di candele Noi ce lo possiamo Segnare come punto Di interesse E poi un'altra cosa Che questo qua Devrai allenarti E farci bene l'occhio Vedi che abbiamo Questo doppio massimo Perfetto Quello è veramente Super 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 Goloso E quello ci piace parecchio Però ovviamente Invece di questo Andiamo a prendere questo Come punto di take profit Per semplificarci la vita Ora Visti i vari punti Viste le varie cose Andiamo a vedere Cosa succede Qua dentro il mercato Vediamo che ci dà Una reazione Sull'apertura Da candele istituzionale Parte Uno in un primo momento Può dire Adesso non me l'ha fillato Quindi vado a cercare Magari un test Per poi andare a rialzo Però ricordati Che ti sto dando Le chiavi in mano Per capire Sempre di più Il pattern costino Questo qua Con il modo di operare Il modo di vedere così Con le caratteristiche Della strategia Te lo vado a spiegare Solo io E questo qua Ricordati che è Il pattern costino Perché un test Non riuscito Da parte del mercato Della nostra zona di interesse Diventerà poi liquidità Che può essere sbilanciata E qua si va più Sull'avanzato Cosa che poi ovviamente C'è bisogno di andare A approfondire Ma andando poi a vedere Cosa succede Il mercato da qui arriva Più è abbastanza brutto Quello è vero Però lo stop loss Tiene Per questo noi dobbiamo Ricordarci l'importanza Del far respirare il mercato E da qui Visto che questo qua Era il nostro massimo Di riferimento Minimo e massimo Una volta fatto questo Io vado a mettere A break even Per andarmi a coprire E una volta fatta Sta roba qua Quindi vado a spostare Lo stop loss A break even Quindi da questo minimo qua Mi vado a coprire Posso andare a mettere qua Per poi lasciar correre E far sì che il mercato Vada a fare Quello che gli interessa E quindi andare A prendere la liquidità E vedi anche l'importanza Di limitarsi a certi livelli Piuttosto che andare A vambire a zone Molto più alte Dove c'è un vantaggio Statistico più inferiore Ecco Questa è la parte principale L'entrata Ma soprattutto l'uscita E questi sono soltanto Due casistiche Successe comunque In una settimana Con euro dollaro Seguendo la strategia Ora Sta a te Metterti sotto Praticare E provare All'infinito Ora che sai Quali sono i punti fondamentali Che vado a utilizzare All'interno del mercato Non ti basta Altro che Andare all'interno Del grafico E ricercarli Mi raccomando Se serve Anzi servirà sicuramente Vai a riguardarti Tutti i video Prendi gli appunti E poi vai a ricercare All'interno del grafico Quello che ti viene spiegato Step by step Ovviamente Non dico mai Di fidarsi A primo colpo Delle persone O di quello che ti viene spiegato Ma di provarlo Con la tua esperienza Con il tuo back test Con la tua pratica E solo così facendo Potrai iniziare a padroneggiare Tutti i vari concetti I vari contenuti Ovviamente questi sono Dei passi iniziali Che ti permettono Di capire Come muoverti All'interno del mercato Poi ovvio che ci sono Tante altre sfaccettature Tanti altri piccoli dettagli Che fanno la differenza Per aumentare Il tuo vantaggio statistico E quindi All'interno di quella Che è la community Che ho sviluppato Che sta crescendo Veramente a dismisura Che sto ricevendo Centinaia di feedback Ogni singolo giorno Grazie anche All'ebook Che vado a portare Ovviamente lì Si potrà andare a elevare Il livello di consapevolezza Ancora A livello successivo Quindi Se vuoi sapere Come funziona il sistema Come funziona la community Tutto quello che riguarda Quello che vado a portare io Scrivimi in privato Community Su Instagram E ti andrò a dare Tutte le info Di cui hai bisogno Per ora Io ti lascio Al video A riguardarlo Ancora 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 Prendere ancora Più appunti E basta Che vai semplicemente Ad applicare tutti i concetti Noi Ci vediamo Nel prossimo video Bye